come eravamo la sera di milan borussia stefano pensa sia top 10 talenti il mondo e io penso io penso che sia un giocatore con un potenziale significativo che fin qui non ha espresso minimamente qualche traccia firenze ha fatto una partita il gol di verona se ti devo dare una definizione di ciocquese non è sicuramente top 10 talenti del mondo forse top 10 delusioni dell'anno in serie a perché io mi aspetto da ciocquese quello che ho visto fare ciocquese nel via real ho anche detto secondo me perché ha avuto delle difficoltà due motivi principali una è una colpa preta tutte e due sono colpe prettamente sua ma una più dell'altra ciocquese è un giocatore che secondo me deve imparare a soffrire un po di più deve impegnarsi un po di più deve avere un po più di fame deve tirar fuori un po più di carattere di cattiveria e una volta pioli lo ha fatto capire dicendo come si allena pulisi come gioca pulisi quanto segna pulisi ma come si allena pulisi che era abbastanza indicativo seconda cosa c'è anche una questione puramente tecnica e tattica ciocquese a me aveva colpito tanto al via real per la sua capacità di ricevere il pallone tenerlo incollato al sinistro partire e seminare quindi presuppone che quello sia un giocatore centrale al quale arriva il pallone sui piedi in una data zona di campo e allora poi la squadra si muove perché lui invade il campo col pane al minan questo non succede non succede devi metterti nelle condizioni di prendere credibilità invece io ti do delle attenuanti un attenuante è stato che è stato infortunato un attenuante da che pulisi che ha fatto il best e il top della carriera e quindi ha avuto anche poco spazio per giocare e quindi c'era anche poco modo milan che poi aveva gli infortunati stava andando male c'era poco modo per ciocquese per diciamo riuscire ad emergere e io questa gliela do come attenuante quello che ci tengo a dire una volta per tutte perché è diventata veramente una frattura di palle notevole che la questione che io ho detto e sono due la prima è che un'operazione a 30 milioni per me sono troppi in senso assoluto anche se potesse potesse pensare che avrebbe fatto meglio di quello che ha fatto in realtà cioè io ho detto inizialmente un giocatore da 5 gol e 5 assist non ci arriverà probabilmente ma è il giocatore più o meno questo o quantomeno il primo anno è questo l'altra cosa che grazie all'aiuto di matteo moretto abbiamo in settimana poi ricostruito bene anche su twitter poi c'è chi non lo vuole leggere ciucuese costa 19 e mezzo di pezzo definitivo più una somma di bonus che sommati sono 14 milioni di euro e non conto la parte commissione alla gente mi voglio essere bravo e tenermi a 33 e 5 il prezzo definitivo poi non lo si vuole capire si vuole dire ma lo pagherà solo 21 perché i bonus entrati sono solo uno e mezzo benissimo quando io parlo di questa operazione diciamo eccessiva a 30 milioni che poi per me vale un po meno ne vale 5 è agosto e non lo sappiamo se i bonus entrano o no quindi il mio commento è di agosto ed è su un'operazione potenzialmente da 30 che poi sono 33 e mezzo sempre più la commissione non contiamo ma diciamo 33 e mezzo alla gente per cui per me sono tanti soldi